Io credo che questa esperienza, questi 40 minuti vissuti insieme, li dobbiamo tenere stretti soprattutto per un motivo, perché a differenza dei 120 minuti precedentemente giocati abbiamo fatto errori, sì, sette palle perse nei primi dieci minuti, sì, ma abbiamo avuto la compattezza e la solidità mentale per rimanere sul presente. Questa è la chiave di questa partita, una partita che secondo me i giocatori hanno interpretato nella modalità corrette, che abbiamo giocato contro una stella polare, che è Adrian Banks, ma anche questo, anche i suoi canestri, anche i suoi canestri onestamente, proprio nelle sue corde al 100%, perché non è riconosciuto come un tiratore, mai riconosciuto come un realizzatore, che se si era fatto sia uno sia l'altro, anche questo comunque non ci ha spostato e il fatto di non farci spostare insieme con la capacità di reagire, insieme con la capacità di stare sul qui e ora, a mio modo di vedere, è stata la chiave della partita, che ci deve insegnare, ci deve servire per esperienza, da produrre le prossime giocate. No, non c'è un elemento, c'è la squadra che ha avuto questo porsi, c'è comunque un'attenzione differente difensiva rispetto ad altre partite, c'è che se teniamo le basi di questa solidità per giocare, di questa capacità di reagire, ci sono anche dei margini. Poi sul ritrovato, Danilo scusami, mi permetto di dire che abbiamo giocato oggi quattro partite, mi sembra che ne avessimo giocate dodici e mi sembra che ci fossero delle sentenze assolute e definitive. Sono quattro partite giocate, due delle quali con un livello di difficoltà più che discreto, se non alto, una assolutamente insufficiente. Ecco, prima di arrivare a delle conclusioni, secondo me bisogna avere la capacità di analisi e avere una capacità di analisi, e ribadisco il concetto a cui tengo tantissimo, è la capacità di analisi da cui stare lontani dal giudizio e magari nell'analisi trovare le lacune che ci sono e cercare di magari insieme trovare il punto che si chiama soluzione. Quindi non c'è niente di ritrovato, c'è un'esperienza in più e si va avanti, si va avanti fino a non vedere, guardare se ci sono delle continuità. Ecco, oggi questa partita ci deve dare anche una spinta di positività per dare continuità, che non significa che si vincerà la prossima con certezza. Io ho la certezza degli idioti, però cercheremo di essere con questa esperienza sicuramente più competitivi e meno disarmanti o disarmati rispetto magari arrivando da una prestazione negativa. Sì, hai ragione, vanno i complimenti a Nardò perché quando conduci per 40 minuti vinci con merito, non ci sono scusanti, anche se qualche episodio non ci ha avvantaggiato, anche se parlare di episodi, ripeto, è fuorviante dopo che si è stato a rincorrere per 40 minuti, ma la storia del basket è piena di partite vinte senza merito qualche volta. Sicuramente, non so se avremmo potuto vincere, ma sicuramente c'era dalla panchina, da bordo campo, la sensazione che con qualche dettaglio aggiustato in più, con un po' più di freddezza, potevamo arrivare ai possessi finali. Invece, con un paio di possessi troppo affrettati, un paio di tiri sbagliati, nella bomba di Zunio con Ucker che cade per terra, lì c'è stato proprio il colpo del capo finale. Però, ripeto, Nardò ha vinto con merito e noi abbiamo inseguito per 40 minuti. Dobbiamo guardarci un pochino dentro perché, secondo me, era una partita che potevamo gestire e giocare meglio in alcuni frangenti. È successa la stessa cosa che è successa la prima giornata a Cento, dove ci siamo disuniti, anche se abbiamo sempre dato l'impressione di non sbraccare proprio fino in fondo, ma, secondo me, abbiamo avuto dei passaggi a vuoto dove solo il talento di alcuni nostri giocatori ci ha permesso di rimanere in linea di galleggiamento. Sicuramente non è una partita dove i numeri contano molto, perché, ripeto, quando stai a inseguire per 40 minuti credo che siano altre le cose, però sette tiri liberi sbagliati, 16 palle perse e 19 punti subiti di contropiede, credo che siano anche questi dei fattori che hanno contribuito a portare a questa sconfitta. La normalizzazione è innanzitutto che chi non ha mai giocato questo campionato qua deve cominciare a produrre, perché noi abbiamo dei giocatori, anche giovani, che questo campionato non lo hanno mai fatto o lo hanno fatto senza pressioni e quindi dobbiamo avere un qualcosina da tutti quanti, perché questa squadra qua è stata pensata con un roster allargato, cercando di far crescere anche dei giovani durante l'anno, di far migliorare le prestazioni, ma è proprio il miglioramento delle prestazioni da parte di tutti che ci consente di poter essere competitivi contro un certo tipo di squadra che non me ne voglia Nardò, però ad oggi era una partita tra due contender di quelle che dovranno lottare un po' per questo campionato con le unghie e con i denti e oggi Nardò ha dimostrato di essere meglio di noi. Credo che il miglioramento delle gerarchie, questo è compito mio e del mio staff, e il miglioramento delle prestazioni, perché oggi abbiamo avuto delle prestazioni anche insufficienti, porterà a normalizzare alcune cose. Poi, se questo ci porterà a competere anche con squadre di altro livello, questo lo vedremo, ma è una maratona talmente lunga questo campionato che noi dobbiamo pensare a partita dopo partita e guardare sempre verso il basso. Sì, Adrian ha giocato una grandissima partita, perché ha giocato 39 minuti, ha creato per sé, ha creato per gli altri, e quindi noi siamo contenti dell'atteggiamento che ha, l'abbiamo preso per questo, anche per guidarci in un determinato momento, in un determinato percorso, ho avuto la sensazione che in alcuni frangenti abbia anche un po' predicato nel deserto, perché qualche volta, o con delle sciocchezze, o con poca qualità, dei vantaggi anche creati da lui, non sono stati finalizzati, ma questo fa parte del miglioramento individuale, è ovvio che giocando spesso, giocando ogni tre giorni, devi anche migliorare giocando e fare tesoro di quelle che sono le difficoltà che le partite ti presentano, però se lei mi dice di Banks, devo dire che anche i due americani di Nardò, questa sera hanno fatto gli americani veri, e quindi hanno spostato l'ago della bilancia senza togliere nulla agli altri, hanno spostato l'ago della bilancia a favore della squadra di coach del Mondia.